Bentornati, anche oggi ci occupiamo del Decameron, siamo arrivati alla settima novella della prima giornata, vedremo che il protagonista di nome Bergamino attraverso una novella riuscirà ad insegnare un'importantissima lezione al suo ospite che è Can Grande della Scala, famosissimo in tutta Italia e nel mondo, a suo tempo un grande condottiero, fu anche un abile scaltro uomo politico e fu anche un generoso mecenate, fu il signore di Verona, quindi siamo di nuovo in Italia, un personaggio storico realmente esistito, dedicatario della terza cantica della Divina Commedia, quindi Dante stesso gli dedicò il Paradiso, infatti Can Grande ospitò, ebbe questo grande onore di ospitare il sommo poeta presso di lui, quindi siamo nuovamente in Italia, quindi ancora una volta un'ambientazione tutta interamente italiana, come nella novella precedente, abbiamo visto, eravamo a Firenze, ora siamo a Verona, quindi nel nord Italia, e dovremo fare attenzione perché il protagonista attraverso un racconto paragonerà se stesso alla vicenda che è accaduta invece a Primasso, che sarà il protagonista dell'altra novella, quindi in questa storia vedremo in azione la straordinaria tecnica del gioco ad incastro, quindi delle scatole cinesi, come vedremo che si svilupperà anche all'interno delle Mille e Una Notte, sappiamo bene che Boccaccio utilizza questa tecnica in modo magistrale, quindi è un gioco ad incastro davvero straordinario, e vedremo quindi il confronto, il parallelismo tra Bergamino e poi Primasso, che sarà invece il protagonista della seconda novella narrata dal primo, ma andiamo con ordine, quindi dicevo siamo a Verona, notiamo quindi l'ambientazione tipicamente italiana, ancora una storia ben radicata, notiamo ancora una volta il realismo a cui siamo abituati, insomma a cui Boccaccio ci ha abituato, però sarà importante notare che in questa novella scopriremo che la parola ha ancora molto da dirci, quindi viene usata per insegnare qualcosa, ecco di nuovo il potere etico della parola, la parola ci salva dalle nostre miserie, ci rammenta quali siano i nostri valori e soprattutto ci nobilita, ecco ci affina, quindi ci permette di elevarci e ci rende migliori, questa è la funzione civile della letteratura, quindi anche in tempo di crisi, quando sembra che tutto stia andando per il peggio, in realtà la letteratura ci ricorda i valori a cui dobbiamo rimanere ancorati come l'ostrica di cui parlava Verga, quindi non dobbiamo mai dimenticare i nostri valori e vedremo che di questa funzione civile, di questa funzione etica molto importante parlerà poi anche Eugenio Montale, soprattutto quando descrive il periodo nero del nazifascismo, tanto così magistralmente descritto anche nella primavera itleriana. Anticipo subito, in questo caso vedremo che l'insegnamento di Bergamino nei confronti del suo signore, quindi di Cangrande, sarà il valore della liberalità. La liberalità era un dovere, che cos'è? Proprio la capacità di offrire spontaneamente i propri mezzi a vantaggio del prossimo, quindi scopriremo che all'epoca era veramente un codice, era previsto dal codice d'onore, quindi era veramente un valore fondamentale quello di elargire del proprio, quindi di ospitare gli ospiti e soprattutto di fornire quindi vitto alloggio e tutto ciò di cui avevano bisogno prima di ripartire, quindi durante il periodo dell'ospitalità. Questo concetto poi è molto antico, viene addirittura dal mondo greco, infatti spesso Omero ce lo ricorda sia nell'Iliade ma soprattutto nell'Odissea, il valore dell'ospitalità all'ospite veniva fornito vitto alloggio, veniva fatto il bagno e soprattutto poi veniva rivestito con dei nuovi abiti, quindi vedremo che la liberalità sarà fondamentale, scopriremo che Can Grande ha proprio violato questo valore importantissimo che appartiene anche al codice cavalleresco e la divina commedia Dante stesso nel cerchio degli avari e dei prodighi condanna sia l'avarizia appunto sia la prodigalità, cioè coloro che hanno evitato di spendere, quindi che hanno cercato in tutti i modi di trattenere presso di sé i loro guadagni, le loro ricchezze e coloro invece come i prodighi che sono stati eccessivamente larghi nell'elargire, quindi nello sperperare e poi hanno mangiato tutte le loro sostanze. Ecco vedremo invece che la liberalità è proprio il giusto mezzo, come diceva Aristotele, in medio stat virtus, quindi la capacità di spendere, quindi di non far mancare nulla all'ospite però spendendo il giusto. Importante sottolineare quindi il valore etico della parola perché scopriremo e questo ce lo insegna anche a noi oggi Boccaccio, quindi un tema di straordinaria attualità che è possibile quindi rimproverare il nostro prossimo senza offenderlo e soprattutto senza utilizzare parole volgari, quindi lo scopriremo attraverso questa novella che racconterà. Quindi dicevo siamo nel 300 perché Can Grande della Scala, il signore di Verona vive proprio nel 300, fu signore della città dal 1308 fino al 1329, grande condottiero, dedicatario ripeto del paradiso e in questa novella scopriamo che Can Grande ha dato una festa, quindi ha invitato tantissimi ospiti, sono accorsi servitori a frotte proprio per far fronte a tutte le spese e soprattutto a tutti i preparativi, però c'è un problema che finita la festa Can Grande proprio si dimentica di licenziare, quindi di accomiatare, di congedare un suo ospite. Da come ne parla Boccaccio capiamo che questo ospite era comunque nobile perché possiede dei cavalli, dei servitori, ma non era, non dimorava presso Can Grande, non era alla sua corte, ma soggiornava in albergo. Pertanto è costretto nel corso del tempo a ipotecare i suoi vestiti, lui ha tre vestiti buoni, deve ipotecarli uno alla volta, quindi darle impegno per poter sostenere le spese dell'albergo. E voi direte beh non se ne sarebbe potuto andare senza il permesso di Can Grande? Assolutamente no, noi sappiamo bene che alla corte del Signore esisteva un'etichetta precisa, un insieme di regole, un codice che appunto non permetteva agli ospiti di lasciare il Signore senza il suo consenso. Lui si dimentica, non lo fa apposta. Bergamino è costretto quindi a impiegare tutte le sue finanze, tutte le sue risorse nei confronti dell'oste, perché l'oste giustamente vuole essere pagato, quindi si indebita. Bergamino non se ne va anche perché è convinto di essere trattenuto da Can Grande per dei favori futuri, forse pensa di essere impiegato in qualche modo, quindi di essere utile al suo Signore, ma questo non è, perché capiamo da come ne parlano che questa persona non era dotata di grandi qualità. Un giorno durante un banchetto finalmente questo Bergamino ha la possibilità di essere a contatto, quindi di incontrare Can Grande, Can Grande si accorge di questa sua malinconia, di questo lungo muso che ha davanti e quindi finalmente ne chiede conto, insomma ne chiede il motivo e Bergamino senza pensare inizia a narrare una storia, quindi racconta una novella. Ecco di nuovo la tecnica quindi delle scatole cinesi, la tecnica d'incastro. Il filostrato che ha il compito di narrare questa settima novella fa intervenire un altro personaggio, quindi Bergamino a sua volta racconta una storia, quindi abbiamo la storia nella storia come siamo soliti leggere anche nelle Mille Una Notte, quindi una tecnica antichissima. Il protagonista della seconda novella, quindi raccontata da Bergamino, questa storia nella storia è Primasso, viene chiamato così in realtà è un soprannome che veniva dato dai suoi amici, questo personaggio in realtà sarebbe Ugo di Orleans, quindi è un personaggio storico, anche lui è realmente esistito, però vissuto tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, morì all'incirca verso il 1160, quindi siamo tornati indietro di più di cento anni rispetto alla storia che stavamo ascoltando prima. Questo Ugo di Orléans dicevo detto appunto Primasso dai suoi amici, quindi Ugo Primate fu un poeta, un canonico di Colonia, quindi autore di canti goliardici, quindi interessante perché era noto anche lui a suo tempo in tutta Europa. Vedremo appunto che si troverà a Parigi per un puro caso e scopriremo quindi di che cosa ci parlerà questo Ugo di Orléans, quindi questo Primasso, detto Primasso, però è importante perché apparteneva a una categoria interessante, quindi dei poeti goliardici. I goliardi, chi sono detti anche clerici vagantes, erano dei monaci o dei chierici, quindi comunque dei membri della Chiesa, i quali erano soliti quindi girare per tutta l'Europa, appunto clerici vagantes, quindi poeti itineranti, frequentavano le migliori scuole, quelle più rinomate, poi facevano carriera all'interno delle corti o del Papa, dei vescovi oppure dei sovrani d'Europa. Quindi è interessante perché appartiene a una categoria ben precisa, però vedremo che questo Primasso, nonostante la fama quindi di poeta, quindi noto in tutta Europa, anche da coloro che non lo avevano mai visto e conosciuto di persona, però ecco fa parte di una categoria specifica, storica, quindi ben precisa ed è un personaggio quindi che soleva raccontare insomma la realtà attraverso la poesia comico parodica o comico realistica, perché questo facevano i goliardi, ecco la poesia goliardica, raccontare quindi dei temi più realistici, quindi più legati al concreto, all'umano, insomma gli argomenti sono gli stessi di Cecco Angiolieri, quindi si parla del dado, quindi del gioco, dell'amore, della taverna, della povertà, l'odiatissima e maledetta povertà. Questo Primasso quindi si trova a Parigi, Ugo di Orléans, e un giorno per puro caso, essendo in ristrettezze economiche, quindi notiamo ancora come il genio spesso però è povero, quindi alla genialità non corrisponde la ricchezza, sente parlare dell'abate di Cluny, ecco notiamo anche per citare un po' la lingua del Decameron, qui viene chiamato l'abate di Cluny, notiamo questa italianizzazione insomma del termine l'abate di Cluny e sente dire quindi dal popolo che l'abate di Cluny è noto in tutta la città per la sua ospitalità e per la sua appunto liberalità, un uomo molto magnanimo quale suole offrire un pasto a chiunque lo desideri, quindi queste persone dicono che non abbia mai negato a nessuno un pasto, essendo in ristrettezze economiche soprattutto sentendo parlare di questa grande quindi carità cristiana da parte del capo dell'ordine clunyacense, Primasso non se lo fa ripetere due volte, insomma decide di andare di persona a constatare se effettivamente questo abate sia magnanimo quanto la sua fama, siccome nel medioevo sappiamo molto bene che gli spostamenti sono pericolosi ed è difficile spostarsi, decide di portare con sé ben tre pani, questo per evitare di morire di fame lungo il percorso, quindi se si fosse smarrito almeno non sarebbe morto di fame, quindi parte, si fa indicare la strada con questi tre pani in tasca. Il racconto ci viene anche detto che questo abate di Cluny fosse addirittura il più ricco prelato di tutta la cristianità dopo il pontefice, riflettiamo sulla veridicità anche storica perché attraverso il decamero noi possiamo conoscere moltissime informazioni sulla vita degli uomini medievali, sappiamo bene appunto che Cluny quindi era stata proprio il centro nevralgico della riforma ecclesiastica della chiesa, quindi dell'ordine benedettino, partendo quindi proprio da Cluny tutto l'ordine benedettino viene riformato e fu anche un'abile mossa politica perché in questo modo il papa sottrasse il controllo dei monasteri cluniacensi al controllo dei vescovi, quindi non erano più i vescovi a controllare questi monasteri ma l'abate di Cluny, quindi dell'ordine cluniacense e tutte le varie abazie disseminate in tutta Europa rispondevano direttamente e solo al pontefice, pertanto saranno anche un grande appoggio, si riveleranno molto utili durante la lotta per le investiture quando il papato si scontrerà contro l'impero. A differenza però della regola di Benedetto appunto scritta nel 540 dopo Cristo, l'ordine cluniacense poi pur partendo quindi da questa regola diede maggior importanza alla preghiera, quindi non tanto ora et labora ma soprattutto ora, quindi dovevano pregare di giorno e di notte, per loro l'unico lavoro consentito era quello appunto della scrittura, quindi della copiatura dei codici manoscritti, quindi praticamente passavano la giornata nello scriptorium per copiare e trasmettere a noi quindi i grandi autori classici greci e latini del passato e dovevano pensate vivere tutta la loro vita in religioso e rigoroso silenzio tutto il giorno e pensate che i cluniacensi in caso di comunicazione erano costretti a comunicare tra di loro a gesti. Facciamo questo approfondimento storico anche per capire meglio, scaviamo a fondo quindi nell'opera anche per comprendere il ruolo di questo abate di Cligny perché facendo questo approfondimento si capirà anche meglio quello che poi dirà Bergamino appunto a Can Grande, quindi capiremo meglio sviluppando la storia. Questi dicevo monaci cluniacensi poi erano noti in tutta Europa e famosissimi per la loro carità cristiana. Ecco quindi il legame con la nostra storia, siccome l'abate di Cligny è reputato uno dei prelati sì più ricchi ma anche più magnanimi e solidali nei confronti appunto dei poveri che appunto Primasso decide di andarne a verificare quindi l'autenticità insomma di questa diceria, vuole conoscerlo di persona. Per fare un confronto con un altro personaggio del Decameron effettivamente Primasso fa la stessa cosa di Abram Giudeo che abbiamo già trovato molte novelle più indietro. Se vi ricordate Abram Giudeo spinto da Giannotto di Cligny decide quindi prima di battezzarsi di andare a Roma per verificare se effettivamente il cristianesimo fosse stata la religione più vicina alle scritture, quindi la religione che effettivamente realizzasse e seguisse più da vicino gli insegnamenti del Cristo. Ovviamente non sarà così però ecco Primasso fa la stessa cosa. Dicevo è importante quindi perché questo ordine cluniacense quindi era noto per la carità cristiana quindi si dedicava molto anche alla cura dei malati anche a domicilio, ospitavano i pellegrini, i chierici che giungevano presso le loro abazie, soccorrevano i poveri, curavano i malati e quindi questo è proprio il nesso con la nostra storia. Primasso non si perde, giunge all'abazia appunto dell'abate di Cluny dove appunto soggiornava in quel momento perché non siamo nella città di Cluny ma è un'altra abazia sempre di questo ordine e gli ospiti quindi vengono fatti accomodare in sala da pranzo ma ecco un'altra etichetta, nessuno avrebbe potuto mangiare fin tanto che l'abate non avrebbe fatto il suo ingresso naturalmente. Per puro caso Primasso è seduto proprio vicino alla camera dalla quale sarebbe poi entrato questo abate e prima di entrare l'abate che cosa fa? Osserva gli ospiti in sala e il primo su cui gli cadono gli occhi è proprio Primasso e nel momento stesso in cui lo vede così sciatto, straccione, infatti l'abate lo chiama ribaldo, chiederà ma chi è quel ribaldo, cioè quello straccione, quel saccheggiatore, insomma si vede dall'aspetto che è un miserabile, che non è appunto ben curato perché abbiamo detto che era povero in canna e subito nel momento in cui lo vede per la prima volta in vita sua viene colpito dall'avarizia, inspiegabilmente proprio è colpito da questa nota, da questa punta di avarizia, cioè di colpo così all'improvviso seguendo un impulso negativo forse dettato dice dal demonio, non vorrebbe ospitarlo ma vorrebbe appunto piuttosto cacciarlo di casa, si informa dai suoi compagni, dai suoi consiglieri, insomma dal suo entourage sull'identità di questo ospite, nessuno lo conosce e siccome però l'etichetta, quindi vedete oggi parliamo proprio del mondo nobiliare, delle etichette che dovevano essere rispettate anche tra gli altri prelati perché non dimentichiamoci che anche loro sono dei nobili, quindi non lo può cacciare perché dice parrebbe brutto insomma cacciarlo, sarebbe scortese, quindi attende che quest'ospite se ne vada da solo, quindi non fa servire il pranzo affinché lui si scocci e se ne vada da solo, invece che cosa fa il povero primasso, tira fuori il suo primo pane e inizia a mangiare, cioè dice nell'attesa, come facciamo noi in attesa del pasto mangiamo il pane, lui fa la stessa cosa, non arrivando nessuno si mangia anche il secondo e infine si mangia anche il terzo, subito i cortigiani informano l'abate ma guarda dice sta mangiando ma quindi ha del suo, ma allora è uno scroccone perché viene alla sua mensa, alla mensa dell'abate e si ha già di che mangiare, nel tempo che è trascorso l'abate però ha un ripensamento, cioè capisce di aver sbagliato e infatti subito si pente di essere stato per un momento avaro, cioè lui non è mai stato avaro in vita sua, quindi le dicerie sono vere, tuttavia si pente di questo primo impulso, quindi capiamo anche, vedete che l'uomo ha degli impulsi, però sta a noi, sta alla nostra ragione poi riuscire anche a domare i nostri impulsi, quindi a far poi prevalere la ragione, come direbbe Dante a sottomettere gli impulsi alla ragione, come diceva anche lo stesso Cicerone, quindi sono tutti insegnamenti che derivano dal mondo classico, dal mondo antico, Cicerone e Seneca sono i due grandi maestri insomma, tutti noi dovremmo imbrigliare quei cavalli che rappresentano appunto gli impulsi con le redini della raison, quindi della ragione. Una volta sbollito questo primo impulso si fa perdonare, quindi chiede l'identità direttamente a Primasso e conosciutolo perché anche l'abate lo conosceva per fama, quindi di questo grande poeta Ugo di Orlean o Ugo Primasso, lo ricompensa, quindi si fa perdonare non chiedendo scusa ma attraverso quindi il cibo, nuovi abiti e lo trattiene quindi fin tanto che lui fosse stato sazio. Una volta ecco che questo ospite è stato rifucillato, insomma è ben ricompensato ed equipaggiato, viene congedato ed è libero quindi di andarsene. Nel momento stesso in cui si chiude questa novella, quindi ritorniamo alla corte di Can Grande, perché Bergamino ha appena finito quindi di raccontare questa storia, questa novella, come dice lo stesso Filostrato, e qui Can Grande subito capisce l'errore che ha commesso, cioè capisce di essersi comportato come l'abate di Cligny, ha capito di aver commesso un grande errore dimenticandosi del suo ospite, perché non l'ha fatto apposta, però di fatto l'impressione che si è data è proprio quella di essere stato avaro, cioè per rimediare al suo errore che cosa fa? Gli fornisce nuovi abiti, lo ricompensa e quindi lo rifucilla e soprattutto riscatta gli abiti che aveva impegnato presso l'oste, quindi paga tutti i debiti che lui aveva presso il suo albergo ed è libero quindi di andarsene, ancora più ricco e ristorato rispetto a quando era arrivato a corte. Quindi che cosa ci fa capire questa novella? Siamo stati proiettati nel mondo dell'alta nobiltà, quindi degli alti anche prelati, qui siamo in presenza dell'abate di uno degli ordini più ricchi d'Europa. Ci ricorda il valore della liberalità, questa virtù, questo valore che era molto importante all'epoca era previsto nel codice quindi d'onore e soprattutto quindi nelle etichette di corte offrire spontaneamente i propri mezzi a coloro che ne hanno bisogno, quindi ci invita nuovamente soprattutto anche in questo grande periodo di crisi, in questi tempi bui, a non pensare soltanto a noi stessi perché qui la critica è fatta proprio nei confronti dell'avarizia. Ricordiamoci che Dante condannò gli avari e i prodighi in eterno verranno agli due cozzi, come cita lo stesso Virgilio nella Divina Commedia, insomma si scontravano per l'eternità, ecco gli avari e i prodighi, coloro che non hanno mai dato nulla, che hanno trattenuto tutto per se stessi e coloro che invece hanno speso talmente tanto da essere rimasti quindi sull'astrico senza più alcuna ricchezza. Quindi non è tanto la ricchezza che viene condannata quanto l'uso e il suo impiego quindi che ne viene fatto in un momento di grande crisi il Decameron di nuovo ci ricorda l'importanza della letteratura, in sostanza quest'opera è importantissima perché ci ricorda l'etica della parola, quindi la parola ha una funzione veramente etica, morale, ci ricorda che in tempi bui, in tempi di crisi dobbiamo sempre tenere a mente i grandi valori, gli ideali che ci vengono quindi dal mondo del passato, dal mondo classico, non dobbiamo mai dimenticare la storia perché non c'è futuro senza passato, dobbiamo sapere da dove veniamo per sapere dove stiamo andando se no non avremo un futuro, alcuni orrori potrebbero anche ritornare se ce li dimenticassimo, quindi non ci dimentichiamo mai come disse anche Montale che l'arte ha questo grande compito, quello di illuminarci come un faro nella notte, quindi ci ricorda i grandi valori che dobbiamo sempre dimostrare che soprattutto non dobbiamo perdere perché la letteratura e l'arte ci inobilitano, ci fanno quindi salire, ci elevano da questa condizione di bestialità, quindi non ritorniamo ad essere come le bestie feroci, ricordiamo le parole di Dante, fatti non foste a vivere come bruti ma per seguire virtute e conoscenza, queste sono le cose importanti, la virtù e la conoscenza, quindi quando vi diranno che lo studio, che la cultura non servono, non credeteci perché la cultura serve per noi stessi, perché nutre l'anima, non si studia per una verifica, per un compito, ma si studia per crescere, per nutrire il proprio spirito, per diventare persone migliori, non per diventare migliori degli altri, ma per diventare migliori per gli altri, come ci ricorda questa novella, dimostrare liberalità serve per gli altri, quindi per aiutare chi ha più bisogno, mettere a disposizione del nostro per gli altri. Arrivederci ragazzi, a presto!